L'aiuto anche a parlare invece oggi per l'ennesima volta siamo senza pannelli senza nulla spieghiamo perché lo studio si sta rifacendo il look perché quest'anno la radio compie 30 anni caro Rocco e come ben sai cosa faremo? Come tu ben sai? Ciucca! 30 ore consecutive di diretta dagli studi di radio. Ma non le faremo noi 30 ore consecutive, noi faremo parte di queste tre... no bisogna specificarlo perché... Sì sarà un weekend dei primi di giugno Rocco se non sbaglio l'altra sera ero un po' distretto. Praticamente ci sarà questa 30 ore consecutive di diretta chiaramente 30 anni 30 ore di diretta. Chi si addormenta perde a dire tritamento. Chi si addormenta perde no e siccome il tema centrale sono i 30 anni della radio ognuno dovrà fare qualcosa di inerente al numero 30. Patrick ne ha già pensata una ma non diciamo niente. Ok che belli gesti che fanno ma non volevo dirlo. Bravo, bravo, bravo. Comunque vabbè sappiate che durante questo weekend siccome noi siamo da palinsesto al sabato niente ci saremo quindi organizzeremo anche qualche evento in Val Chisone. Aspetta a organizzare il Pullman per venireci a sentire in diretta dalla Val Chisone. Sì sì ma si può anche fare che magari qua ci sarà un po' di festicciola spero no? Roba di bollicini. Roba di fermentazione. Mamma mia. Mamma mia. Io su questo manderei un sms al 339 6300 per ringraziare Rocco di questo. Io invece credevo su questo manderei un pezzo musicale e invece no. Sì ma oggi io direi che come sempre d'altronde la musica ci sta a cuore. Noi vogliamo tanta musica. No ci sta salvando ragazzi la verità è questa perché non funziona. Perché la bella musica prima di tutto è su Radio Bequit. Che cosa è scoppiazzato di brutto qua. No comunque scherzi a parte ritorniamo su lanciamo questo contest. Come può essere? Io voglio più iniziative in Val Chisone e adesso che ci sono le elezioni. Qualcuno si dia da fare. Quindi parliamo di politica. No vabbè no 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 non inoltriamoci. Politica no ma diamo qualche buona proposta per quello che riguarda il nostro territorio locale. Datecela anche voi se volete. E potete farlo anche voi per quello che riguarda il vostro di paese. Quindi iscriveteci al 339 6300 192. Anche su Whatsapp. Caparezza questo è per il Fede. Ciao Fede. Mi chiamo funzionanti. Mi chiamo di una cosa. Che schifo di cuffia. Tana.